Non ha ancora un nome il migrante morto domenica mattina intorno alle 7 lungo la ferrovia Ventimiglia all'interno della Galleria Dogana mentre cercava di attraversare il confine per raggiungere la Francia. Pare si tratti di un nordafricano di età compresa fra i 20 e 25 anni ma a causa delle ferite letali che ha riportato non è possibile un riconoscimento facciale. Sotto sciocca il macchinista che si è accorto della sua presenza ma non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Si tratta dell'ennesima tragedia che vede coinvolto un migrante che tenta di barcare il confine lungo la strada ferrata. A certi eventi sono ora in corso da parte di carabinieri e polizia.